I giovani del servizio civile del patronato Will assieme ai pensionati per un corso di alfabetizzazione rivolto ai pensionati Will in grado di fornire una formazione basilare sull'uso dell'informatica, un modo per aiutarli anche a districarsi nel mondo del web, ad evitare truffe, a saper utilizzare lo speed con il supporto del sindacato. Il sindacato Will pensionati scende in campo così con un corso gratuito di 34 ore in due turni. Si parte dai dati, ci sono 16 milioni di pensionati in Italia e meno di 4 milioni hanno fatto questo identificativo speed. Si capisce dunque il disagio e le difficoltà che si presentano per i meno giovani. Noi abbiamo fatto proprio un progetto o meglio l'ha fatto il nostro patronato il patronato Ital insieme alla Will pensionati appunto per svolgere questo tipo di intervento di azione diciamo positiva nei confronti delle persone anziane che come giustamente diceva lei hanno difficoltà di accedere all'uso dell'informatica. Prima di insegnare bisogna capire che tipo di conoscenze hanno le persone che verranno a questo corso. Spiegheremo tutte quelle cose di base che le persone mancano oggi quindi come riconoscere anche magari le fake news online, come si può sfruttare al meglio internet, quindi la navigazione sui siti web, ma anche una parte un po' più pratica quindi le parti del computer, le periferiche, tutte quelle cose che risultano ecco sconosciute alle persone un po' più anziane che magari sono più lontane rispetto ai ragazzi. Un servizio utile che consentirà agli anziani anche di usare servizi come portale sanità o cambio medico. L'età media dei partecipanti al corso è di 70 anni. Quindi questi corsi che sono stati fatti grazie all'intervento della Will pensionati e al patronato Ital e mette in campo anche i nostri giovani del servizio civile per dargli un ruolo di insegnamento in questo caso permetterà a tante persone anziane di potersi cimentare in questo nuovo percorso che è fondamentale per stare oggi al passo coi tempi. Avranno la possibilità di capire tramite queste nuove nozioni che apprenderanno l'uso del computer ma anche di capire che cosa succede nel mondo del web dove magari si avvicinano con i telefonini e riusciranno a riconoscere le varie truffe che ci sono normalmente che colpiscono soprattutto gli anziani ma saranno anche capaci di poter fare da soli o anche con l'aiuto eventualmente e il supporto dei nostri servizi quelle normali pratiche che i giovani fanno tranquillamente. Però oggi è importante dare un segnale di vicinanza alle persone che hanno comunque diritto di stare in società con i miei pensionati.